Un problema difficile, c'è una sofferenza per i bambini perché la famiglia è povera, povera e la madre e il padre inviano i ragazzi al lavoro, non alla scuola. Il padre e la madre, l'estate non dice nada, però hanno una legge qui che i bambini, i piccoli e i minori devono andare alla scuola e qui a Camassù tutti i bambini vanno alla scuola, tutti. Dopo la scuola alcuni bambini vanno ad aiutare la sua madre, prezioso, questo è hermosso, grazie al Papa Francesco di venire qui, qui, la vita qui è una lotta, una lotta, tutti i giorni. Il Papa viene qui per donare coraggio a tutti i bambini, i giovani, le madri e le famiglie per continuare questa lotta contro la povertà e rendere la dignità alla persona umana. Grazie, Papa Francesco, grazie per la voglia visita qui perché il popolo di Camassù, di Madagascar, il popolo malagasio è un popolo straordinario. Ama la gente, ama la pace, ama la vita. Adesso noi abbiamo un nuovo governamento che va a lavorare, noi abbiamo confianza nel nuovo presidente giovane che vuole lotare contro la povertà per la dignità del loro popolo.